La domanda è, cosa dà Ho'oponopono? A cosa serve ripetere il mantra Ho'oponopono? Ripetere il mantra Ho'oponopono nello specifico perché è lo strumento di cui parliamo più spesso, ma qualunque strumento usiamo per fare Ho'oponopono, quello che Ho'oponopono ci dà, quello che Ho'oponopono ci permette di ottenere, tra virgolette, è una maggiore centratura, una maggior capacità di riconoscere la nostra bellezza, una più naturale capacità, una più naturale possibilità di vedere le cose che accadono nel loro vero aspetto, nella modalità reale per la quale si verificano. Questo è quello che accade comunque in ogni caso quando noi facciamo Ho'oponopono. Ho'oponopono fa proprio questo, ci mette su una vibrazione così alta da permetterci di riconoscere le cose nella loro reale essenza. Naturalmente più noi siamo legati al bisogno di ottenere qualcosa con Ho'oponopono, meno siamo in grado di riconoscere ciò che veramente fa Ho'oponopono. Paradossalmente spessissimo può capitare che mettendoci su questa vibrazione diversa, quello che appare, quello di cui facciamo esperienza, è anche una risoluzione delle questioni che ci creano disagio, che ci creavano disagio fino a poco prima. Questo semplicemente perché la nostra vibrazione si alza, il nostro atteggiamento verso la vita cambia e quindi la vita stessa ci risponde con situazioni, con questioni, con realizzazioni vibrazionalmente armoniche con il nostro nuovo atteggiamento, quindi tanto più noi siamo gioiosi, tanto più vibriamo alto, come si dice, tanto più le cose che accadono nella nostra vita saranno belle, gioiose, riflesso appunto della gioia che noi emaniamo. Tanto più siamo centrati e vibrazionalmente alti, tanto più le cose che accadono nella nostra vita ci piacciono. Grazie a tutti.